C'è una foto? Posso chiedere che ne pensa di Vlaovic a papà? Dai Lucia Signor Massimo, cosa ne pensa Dottor Ortelli di Vlaovic? Ma io credo che Vlaovic non abbia più entusiasmo di restare nella Juventus se si accercare bisogno di trovarsi nuovi stimoli fuori dalla Juventus non credo sia più per noi, troveremo un altro giocatore Ma papà, ma Vlaovic è il miglior centravanti nel mondo dopo me Mi piacere parlare con un Ortelli che capisce di calcio Non potrei stare con noi Secondo te, sinceramente io ne capisco di calcio? No Tu parli di calcio, è diverso Ecco La voce della verità Toglili la cuffia Luca, tolili la cuffia